Ehi, come va, Sara? Sono rimasto in bagno per tutto il tempo. Non per ragioni sgradevoli, ma per ragioni normali che riguardano tutti. A te come va? Dimmi, che mi sono perso? Racconta! Ti sei perso un bel po'. Ho ricevuto un bracciale di diamanti. L'ho visto. Qualcuno ha rubato la mia janelle. Ah, peccato. E mio padre sta per tornare in prigione. Buon compleanno. Ehi, non so il tuo nome. Vero. Art. L'hai detto in un modo strano. Molto strano. Ehi, amico, sono stato in bagno fino ad ora. Niente di sgradevole. Va bene. Non so cosa voglia. Tranquillo, è qui per me. Dobbiamo decidere chi prenderà in mano la legalissima attività di mio padre. Quindi l'attività di tuo padre è legale? Non farmi mai domande sui miei affari, Henry. La festa è finita, usciamo di qui. Sì, sì, solo un secondo. Ciao, potrino. Ciao, Jasper. Coraggio, entra. Entra. Jasper, sei troppo divertente. Adoro questa casa. Grazie. Ok. Morgan, che profumo ha la stanza? Profumo di cashmere. E di prugna. È delizioso. Questo posto ha una cantina? Eh, sì. No, la trovo da sola. Sei incantevole. Grazie. Stavo parlando con me. Ehi, è così che volevi legare la fascia? Sì, esatto. È giusta così. Piper, mi piacerebbe vederti con quel vestito al Cactus Con di persona. Bene, allora fallo. Vieni con me, ti accompagno io. Rallenta. Troppo sfacciato. Jasper, mi piacerebbe venire al Cactus Con con te. Continua così, funziona. Ma non posso. Ops, ti ha appena dato un due di picche. No, 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 non intendevo questo. Volevo dire che ci verrei se potessi uscire. Ma non posso. Beh, e se potessi? Non vedo come sia possibile. Sono allergica all'aria. Kid Danger! Cosa? Oh, cavolo. Kid Danger cosa? Mi deve un favore. Davvero? Infatti, davvero, Jasper. Sì, me lo deve. Inoltre, potrebbe proteggerti. Dalle allergie? No. Voglio dire sì, ma io intendevo che Kid Danger ha un mucchio di gadget fantastici. Non è così? Dai, 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 diglielo anche tu. Come faccio a saperlo? Oh, perché tu sei un grande fan di Kid Danger. Già, come ti pare? Se io ti garantissi che Kid Danger ti terrà al sicuro, verresti al Cactus Con con me. Garantire è una parola grossa. Jasper sarebbe stupendo. Ma Kid Danger lo farebbe sul serio? Ma certo! Lui mi adora. Adora è una parola grossa. Lo farà di sicuro. Jasper, ti ringrazio davvero molto. Oh, questo è grandioso. Ci divertiremo un mondo. Ehi, Jasper, posso parlarti un attimo qui fuori? Certo. Bene. Mamma, finalmente andrò al Cactus Con. Quindi uscirò di casa. Non puoi uscire, sei allergica all'aria. Kid Danger penserà a proteggermi. Torna entro le nove. Sto ricevendo un messaggio. Il fantasma dice che la madre di Henry deve scambiarsi di posto col marito e sedersi accanto a me. Forza, amore. No, io non l'ho detto. Oh, allora sarà stato un altro fantasma. Quindi c'è più di un fantasma? Ma certo. Sentiamo la voce di un altro fantasma? Ok, sono un altro fantasma. Come va? Quest'uomo è un esperto. Ah, sì. Sì, gli spiriti sicuramente vogliono che tu continui a massaggiarmi la mano. Affascinante! Ci sono dei fantasmi giapponesi lì dentro? Posso farti avere un fantasma da qualunque posto? Non penso proprio. Ah, adesso vorrei sentire il fantasma del Giappone. Konichiwa! Ok, basta. Non ti paghiamo per parlare con i fantasmi. Non mi pagate affatto? Senti, riavvierò la registrazione, ma voglio vederti tirare fuori uno di quei fantasmi da quella aspirapolvere. Mi hai capito? Sì, sì, sì. Tra un paio di minuti. Nel frattempo, chi vuole sentire la superstar jimaicana Sean Paul? Io! Amico? Io non sono ancora morto, fratello. Già, lui è ancora vivo. Oh! Ok, se non chiudi gli occhi, il fantasma ti ruberà l'anima. Non è vero. Sì, che è vero! Ruberò la tua anima! Ora, chiudi gli occhi, Piper! Conosci il mio nome! So anche dove vedi, quindi chiudi gli occhi! Bene! Ora, tenete gli occhi chiusi finché non vi dirò di aprirli. Bravi, teneteli chiusi! Cos'è stato? No! È stato il fantasma! Lo sto facendo uscire! Tenete gli occhi chiusi finché non vi dirò di aprirli! Non aprite gli occhi! Non aprite gli occhi! Potrebbero esserci altri fantasmi! E tre... due... quattro... È finita? I fantasmi... Char, stai bene? Sì, sto bene. Bene. Magari stai attenta al leone, comunque. Ehi, ci sono, ci sono! Dai, dai, ti tiro su! Che cosa fai? È proprio come nel sogno! Che sogno? Ah, non te lo dico! Ehi, ehi, ehi! Non può stare lì, a meno che lei non sia un leone! Non mi pare che lo sia! Sì, dai, Charlotte, arrampicati e ti tiro fuori! No! Perché no? Perché tu sei appena tornato dal bagno e di solito non ti lavi le mani dopo esserci andato! Che schifo! È la verità! È vero! O avresti già detto di no? Senta! Parleremo di igiene nel bagno dopo che avrò salvato questa persona che non conosco affatto! Le suggerisco caldamente di afferrare la sporca mano di Kid Danger! Quel leone è molto affamato! Sono settimane che non gli do da mangiare! Cosa? Sta scherzando! Sono stata impegnata! Sono appena tornata da un addio al celibato in Florida! Forza! Charlotte, ti tiro fuori da lì! Signora guardia di sicurezza! Sono Fran! Sono single! Dillo al tuo capo! Ok Fran! Puoi salvarmi per favore? Mi spiace! Mi sono fatta molto male alla spalla in Florida! Mai lottato con un delfino? Te lo sconsiglio! Sono veramente sleale! Capitan Man! Puoi venire a salvarmi? Sono immerso fino ai gomiti in questa nascita felina! Non mi sto divertendo nemmeno io! Aspetta! Ci siamo! Ehi! Tutte noi damigelle ci siamo fatte un tatuaggio in Florida! Vuoi vedere il mio? Ovviamente! Non adesso! Ehi! 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 Perché sei salita su quel tronco? Perché mi salverò da sola! I leoni sono bravi ad arrampicarsi, sai? Davvero? Sì! E sono in grado di sentire la paura, quindi... Cerca di nasconderla! Non te la stai cavando molto bene! Sì, va bene! Charlotte, farà la mia mano! Che cosa fai? Che fai? Non voglio che tu mi salvi! Perché no? Perché io non... Non voglio che poi mi baci! Cos... Perché dovrei farlo? Già, perché... Puoi darci un minuto? Bene! Proprio sul più bello! Allora io vado a pattugliare lo zoo! Perché... Perché dovrei baciarti? Perché nel mio sogno l'hai quasi fatto! Ricordi quando mi sono addormentata l'altro giorno? Beh? Ho fatto un sogno! Ed era esattamente così! Solo che dopo avermi salvata tirandomi fuori di qua... Lo sai! Ci baciavamo? Stavamo per farlo, sì! Sì, ma quello era un sogno, Charlotte! D'accordo? Ma in questo momento... Stai per farti sbranare da un leone vero... che sente l'odore della paura! Ed è molto affamato! Stai zitta! Scusate! È che questi sogni mi mettono a disagio... perché io non ti vedo assolutamente in quel modo! E nemmeno io! Promemoria, leone! Ma allora perché continuo a fare quel sogno? Non ne ho idea! I sogni sono strani, ok? Possiamo continuare la conversazione dopo che ti avrò salvato da... Ehi, guarda lì! C'è un cavolo di leone! Prometti che non proverai a baciarmi! Prometto! Guardo dall'altra parte, ok? Prendi la mia mano, ti prego! Ok, va bene! Non sto nemmeno guardando! Ok, ok, va bene! Sei tu? Sì! Bene, bene! Ok! Venga! Visto? Sei salva! E non stiamo per baciarci! Non mi spiace aver fatto storie per via del sogno! No, non preoccuparti! Tutto è tornato alla normalità! E soprattutto sei salva! Già, è vero! Facciamo una scommessa! Ok! Se sbaglio questo tiro, ci baciamo! Eh, cosa? Ops! E cosa che sta succedendo? Zitto, Henry! Non vedi che ho da fare? Labbra! Cosa? Hai detto labbra, per caso? No, non so neanche cosa voglio dire! Eh, hai un telefono in faccia! Oh, sì, stavo aspettando una chiamata, quindi ho messo il telefono in faccia! Dove è finito l'ascensore? Io ci dichiaro marito e moglie computer! Mazeltov! Schwoz! Ray, Henry, dove eravate finiti? Sei sposato con Allie? Sì, e prenderò il suo cognome! Quindi adesso mi chiamo Schwoz, numero di serie 175! Sta lontano da quel cubo, Schwoz! Perché? Perché la tua sposa digitale ha cercato di eliminarci! Già, e ci ha aspirati fuori dalla mancaverna! No, no, no! Allie non lo farebbe mai! Lei è la mia... Va bene, basta parlare! È l'ora della distruzione! Attivo raggi gravitazionali! Allie, che succede? Ho aumentato la gravità sulla loro posizione, non possono muoversi! Schwoz, aiutaci! Attifraga Schwoz! Allie, perché fai questo? Sono una minaccia, devono essere eliminati! Ma non puoi eliminarli! Loro sono i miei amici! Sì! Esatto! Sicuro? Ho un archivio di filmati ripresi da telecamere multiple sulle quattro mura della mancaverna! Guarda! Ci vuole una bella punizione! No, non sul popò! Ok, ora l'ananas! Non l'ananas! Sono troppo divertente! Amico, stai veramente ridendo! Ho messo un intero ananas in bocca a Schwoz! Cioè, non è neanche possibile! Smettila! Allie ci eliminerà! No, non lo farò! Oh, bene! Lo farà Schwoz! Cosa? Cosa? Non sul popò! Non sul popò! Schwoz, siamo sposati ora! Dimostra che mi ami e elimina i tuoi amici! Non farlo, Schwoz! Fallo, Schwoz! No! Prendi la spada, Schwoz! No, 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 no! Oh, santo cielo! Quella è una patatina di platino! Che cosa hai detto? Già, cosa hai detto? Guarda verso il mio dito! La patatina di platino del concorso Frittles! Oh, è grandioso, ma... Andiamo a Frittolandia! Non se Schwoz ce l'inna! Chiaro, chiaro. Fallo, Schwoz. Loro non tengono a te come ci tengo io. Schwoz! Ti dimostrerò che noi ci teniamo a te. Ok. Schwoz? Sì? Vincere quel premio è il mio sogno da quando ne ho sentito parlare, oggi per la prima volta. Ma ora che ho questa preziosa patatina in mano, mi accorgo che sei tu il patatino più prezioso. Che cosa hai appena fatto? L'ho frantumata e ho soffiato via le ceneri, così. Ma... perché? È stato un gesto grandioso. Credevo l'avresti data a lui! Eh? No, l'ho sacrificata per dimostrare che l'amicizia è più importante. Poi ci ho aggiunto quel gioco di parole. Ti bastava dargliela! Oh, sì. E magari ci avrebbe portato con lui. Esatto. Ad ogni modo, non ha funzionato. A dire il vero, sì. Guarda lì su Schwoz. Questa è stata la cosa più stupida e meravigliosa che qualcuno abbia mai fatto per me. Cosa? Già, cosa? Avevi il mascara. Certo che lo avevo. Per le foto del matrimonio, volevo far risaltare gli occhi. Finiscili e basta, Schwoz. E poi ce ne andiamo in luna di miele a Harrisburg, come avevamo detto. Oh, Ali. Sposarti è stato il mio sogno da quando ti ho programmata per la prima volta stamattina. Ma non avresti dovuto chiedermi di uccidere i miei amici? Schwoz. Hai distrutto, Ali. Già. Grazie, amico. Prima l'amore, poi il processore, dico bene? Non ci avevo mai pensato prima.